L'Innovation Lab di Omron è uno spazio dedicato e pensato per studi di fattibilità, corsi di formazione e seminari tipici. L'obiettivo è quello di rendere fruibile e accessibile a tutte le aziende le tecnologie dell'automazione industriale. Dalla robotica collaborativa ai sistemi di visione, passando per i controllori di macchine e la sensoristica, l'idea è quello di far toccare con mano il nostro concept tecnologico dell'iAutomation. iAutomation per noi è l'Innovative Automation, composta da quelle che sono le tre i di integrazione, intelligenza e interattività.